Il quadrilatero della moda è il quartiere del lusso, comprende gli edifici che sorgono tra via Monte Napoleone, via della Spiga, via Manzoni e Corso Venezia. In questa zona si concentrano le gioiellerie, le boutique e gli showroom delle grandi griffe di moda, design e arredamento. Via Monte Napoleone è il cuore del quadrilatero, è uno degli indirizzi più famosi della moda. Durante le settimane della moda è molto facile incontrare personaggi famosi e modelle impegnate nelle spilate. Via della Spiga è pedonalizzata e ottima per una tranquilla passeggiata. Ma accanto all'effimero della moda non bisogna trascurare numerosi musei e palazzi storici della nobiltà milanese, tra cui segnaliamo i musei civici di storia contemporanea e la casa-museo Bagatti Valsecchi. Via Manzoni termina con gli archi di Porta Nuova, parte della cerchia muraria medievale e uno dei due accessi antichi della città. Il nuovo si sposa con l'antico.